Questa è la terza edizione del Pet Carpet Film Festival, questa rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. Io ce l'ho tutti, ho due magliali, quattro mucche, una decina di cavalli, le galline. Se tu li guardi e li ascolti, ti parlano, ti dicono cose che molte volte noi umani non sappiamo dire, perché loro parlano col cuore, noi molte volte parliamo a casarci. Io sono sempre praticato sia contro l'abbandono, ma soprattutto per lanciare il messaggio che gli animali vanno rispettati, soprattutto amati e tutelati. Questo è il grande messaggio di questa bellissima manifestazione. Il miglior corto in assoluto quest'anno all'Angelo Pustode realizzato dalla Lega del Cane. Nel tempo vidi molti dei miei amici partire per le loro nuove case, mentre io e altri come me continuavamo ad essere invisibili. Grazie per avermi regalato la vita. Un ringraziamento speciale al programma di Rete 4 dalla parte degli animali. Benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali. Che quest'anno il Pet Carpet ha deciso di premiare come miglior programma Animali in TV 2020 per l'attenzione alle tematiche più delicate e la ricerca di testimonianze autentiche volte a sensibilizzare il forte legame d'amore tra animali e umani. Anche noi, soprattutto noi, siamo dalla parte degli animali. Bravi che siamo! E' un'isola!